Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Sulla statale 1 Aurelia, tratto chiuso per lavori tra i chilometri 274 e 700 e 277 e 750 tra Donoratico e Cecina Centro, in direzione nord. Per questi lavori è chiuso anche lo svincolo di Cecina Sud. Sulla statale 12 della Betone del Brennero, senso unico alternato per Frana, al chilometro 68 e 950 tra Popiglio e la Lima. Sulla strada provinciale 34 di Rossano, al chilometro 7 e 500, in località Vallina, nel comune di Bagno a Ripoli, senso unico alternato per lavori fino al 23 marzo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!